Perché il daily è un formato vincente? Perché è un formato che entra nella routine delle persone, diventa un'abitudine. Ognuno può scegliere quando ascoltarlo, ma tendenzialmente poi si sceglie un momento della giornata e tutti i giorni si torna a quello. Noi siamo animali abitudinari, facciamo le stesse cose, la routine ci dà molta sicurezza. Quindi inserire all'interno della nostra routine quotidiana un appuntamento anche breve con l'informazione da poter fruire on demand, quindi quando vogliamo, è molto importante. Qual è il profilo dell'ascoltatore tipo di Cora Media? I nostri ascoltatori sono giovani, dai 18 ai 35-40 anni, quindi è un pubblico molto giovane, è un pubblico abituato alla dinamicità, è per questo che il podcast è vincente, perché può essere ascoltato mentre si è in giro, non richiede una fruizione, un'attenzione esclusiva, quindi ti può accompagnare nel corso di un'altra serie di attività che fai nel corso della giornata. Pensi che il podcast sia il futuro del mondo dell'informazione? Penso che il podcast possa contribuire al futuro dell'informazione, questo sì. Può essere uno dei nuovi mezzi che ci permette di informarci con gli strumenti tecnologici che abbiamo a disposizione, che quindi sono diversi da quelli del passato e quindi sicuramente può aiutarci a rimanere aggiornati. Grazie. 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 Grazie.